... Uccisione confermata. Ti seguo. Piazza una mina. Piazza una Claymore. Uccisione confermata. Nemico a terra. Ti copro io. Sto ricaricando. Sto ricaricando. Cambio caricatore. Il nemico in vantaggio. Lancia un'attività. C'è un'attività. Confermo un'uccisione. Guarda dove spari. Guarda noi. Uovì nemico in zona. Senti partito. Uovì nemico in volo. Granata partita. Cerchino eliminato. Mina debilitante in campo. Colpito. Cambio caricatore. Guarda qui. Guarda qui. Guarda qui. Lui rimuballo. Ti dimentico. Con poche munizioni. Guarda qui. Sei pronta. Guarda. t retta schierata Uccisione confermata Sto ricaricando Mettà della missione completata. Conquittate la vittoria. Un avvi nemico in zona Missile cruz alleato in uso Un avvi alleato in zona Un avvi nemico 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 in zona